Ciao a tutti appassionati di ballo e benvenuti in questa nuova serie. L'abbiamo denominata Basic Training perché vuole essere una serie dedicata a tutti quegli appassionati di ballo che però ancora non conoscono bene i passi e sono interessati alle prime figure, alle figure propedeutiche per iniziare a ballare. In tantissimi infatti sotto i video delle nostre serie come A Scuola dalle Leggende, Danda Express o Il Mondo Perduto ci avete detto infatti bella, sì la tecnica e tutto, però io magari ancora non so i passi, non so che passi devo fare per ballare, che cos'è un giro destro, che cos'è un pivot, come si fa a girare a sinistra. Questa serie è dedicata a voi. In questa serie vi insegneremo tutti i principali passi di ballo, Basic Training proprio per chi si andrà ai passi proprio principali per imparare a ballare il waltzer, il tango o il waltzer viennese o il foxtrot per esempio. Quindi prima di iniziare con il video della giornata attivate la campanellina, mettete like al video e condividete questa serie il più possibile per farla conoscere a tutti gli appassionati di ballo. Ogni 15 giorni uscirà un nuovo video, così i passi di ballo di base, nudi e crudi, senza tanti tecnicismi e senza complicare tanto. Ci vedremo solo i passi e come si eseguono in compia. Adesso vi lascio, godetevi il video, ma ricordatevi sempre like, commento, quindi mettete mi piace, il commento e condividete questi video. Come avete visto dopo la prima parte dedicata alle figure base del foxtrot, abbiamo visto la greca angolata e il giro pivot. Oggi andremo a vedere l'innominata, ovvero come Voldemort l'innominata in cosa consiste? Quando facciamo la greca angolata normale, a un certo punto posso inserire una variazione, ovvero non andrò a fare avanti, avanti, al lato chiudo, indietro, indietro, al lato chiudo, ma andrò a fare avanti, al lato chiudo, con il piede destro muovo esterno alla ballerina, e andrò a fare avanti, al lato chiudo, ripetiamola indietro normale e faremo slow, quick, quick, slow, quick, quick. Quindi lento, lento, veloce, veloce, lento, veloce, veloce, lento, veloce, veloce. Questa è l'innominata del foxtrot. Vediamo come si fa a fare in continuità, vediamo come si fa a fare la greca angolata e faremo questo. Slow, slow, quick, slow, quick, sto, al lato chiudo, esco e riparto. Adesso ti potrà sembrare che il video sia finito, e in realtà non è così. Che cosa devi fare adesso? Ti guardi queste due immaginette che vedi in sovraimpressione, che sono due dei nostri migliori video. Li guardi, e invece se li hai già visti, clicchi sulla nostra immagine nel centro dove siamo io e Simona, e verrai catapultato direttamente sul nostro canale dove troverai centinaia di video di ballo.